Classificazione degli strumenti musicali. Ciao, oggi parliamo degli strumenti musicali e di come possiamo dividerli in gruppi. Un modo per farlo è guardare come producono il suono. Aerofoni. Il suono si crea soffiando aria dentro lo strumento. Cordofoni. Il suono si crea facendo vibrare delle corde. Membranofoni. Il suono si crea percuotendo. Ovvero battendo una membrana. Tipo una pelle che vibra. I diofoni. Il suono si crea facendo vibrare tutto lo strumento. Come nel caso del triangolo o delle maracas. Un altro modo per dividere gli strumenti è in famiglie orchestrali. Queste sono. Archi. Hanno corde che si suonano con un archetto. Legni. Strumenti a fiato fatti di legno o che anticamente erano di legno. Ottoni. Strumenti a fiato fatti di ottone. Percussioni. Vengono suonati percuotendo parte dello strumento. Strumenti a corde. Gli strumenti a corde possono essere di due tipi. Corde strofinate. Si usa l'archetto per far vibrare le corde. Sono violino, viola, violoncello, contrabbasso. Corde pizzicate. Le corde vengono pizzicate con le dita o con un plettro. Sono chitarra, arpa. Strumenti a fiato. Gli strumenti a fiato possono essere di due tipi. Legni. Flauto. Ottavino. Clarinetto. Oboe. Corno inglese. Fagotto. Controfagotto. Sassofono. Che, pur essendo in ottone, appartiene ai legni perché ha la stessa imboccatura. Ottoni. Tromba. Trombone. Corno francese. Tuba. Strumenti a percussione. Gli strumenti a percussione possono essere di due tipi. A suono determinato. Ovvero che sono in grado di fare le note. Sono. Campane tubolari. Glockenspiel. Timpani. Vibrafono. Csilofono. A suono indeterminato. Ovvero che non sono in grado di fare le note. Sono. Piatti. Clavette. Frusta. Triangolo. Tam-tam. Gran cassa. Disposizione degli strumenti in orchestra. Qui potete vedere il disegno di un'orchestra completa. Nella sezione rossa ci sono gli archi. Nella sezione blu ci sono i fiati. Divisi in legni e ottoni. Nella sezione verde ci sono le percussioni. Strumenti a tastiera. Abbiamo, infine, gli strumenti a tastiera che sono. Pianoforte, a corde percosse. Clavicembalo, a corde pizzicate. Celesta, a lamine di metallo percosse. Organo, ad aria. A presto. A presto. Grazie a tutti